Ciao amici, oggi contempliamo Gesù in croce che affida sua madre Maria a Giovanni, il discepolo amato che siamo ciascuno di noi, perché anche Giovanni abbia Maria come madre. Ecco, oggi possiamo imparare da Giovanni a diventare veri figli di Maria, perché ragazzi Gesù sa che nelle nostre giornate non sempre tutto è facile e non sempre va tutto bene, ma la cosa più importante quando non va tutto bene è avere qualcuno che ti tenga la mano e che resti accanto a te. Ecco, Maria è una mamma ed è proprio così. Allora oggi ragazzi proviamo a prenderci questo piccolo impegno, quando c'è una cosa che non va, un imprevisto, un inconveniente, non ci buttiamo giù e non ci lamentiamo, ma impariamo non a voler fare tutto da soli, ma chiediamo aiuto a Maria nella preghiera e chiediamo aiuto alle persone che Maria ci mette accanto e che ci vogliono bene e che ci possono aiutarci. Oggi ragazzi scopriamo che Maria è nostra madre.